Atos Facincani, credo che non abbia bisogno di presentazione, è cartesano doc. Espone a Milano questa galleria d'arte Rosenberg fino a fine dicembre praticamente. Sei il reduce di una grande mostra al Principato di Monaco. A Milano presenti invece le tue opere. Credo che questa galleria sia importante, ma anche le altre esposte. Ebbene, una bella galleria, una galleria importante sicuramente. La mostra l'ho selezionata nel lavoro degli ultimi due anni. Credo che sia, onestamente io parlo nei confronti della mia pittura, una bella mostra importante. Questo sì, l'ho selezionata con 30 lavori. 30 lavori che come sempre ricordano dove va la mia pittura. La mia pittura, se qualcuno non si ricordasse, va verso la luce. Il racconto semplice, il sole alto e i colori. I colori che portano a quella serenità che io da molti anni ricerco. Io ho grandi ricordi di te. Mostra Peschiera, il tuo grande Alberto Castagna che è venuto a inaugurare una delle tue mostre. Amici televisivi, scherzi a parte. Insomma, il mondo ti è stato sempre vicino, il mondo spettacolo, il mondo artistico. Tu mi hai voluto fare l'intervista adesso. Dopo, molto probabilmente, arriva il mio amico Balestri, Marco Balestri. Con il quale abbiamo fatto diversi scherzi a parte. Lo scherzo a parte più bello dei primi cinque anni, quello che io feci è l'Elia. E lo feci come regista Marco Balestri che poi arriverà. Il mio mondo è anche quello di tutto ciò che rotta intorno all'arte. Tu ricordavi un momento molto importante, che era quello della presenza di Alberto Castagna, che per me è stato un grande amico. Ma credo che fra gli amici che stanno arrivando c'è anche un grande artista. Silver, l'abbiamo visto oggi nella sua mostra per le poste e sicuramente sta arrivando. Quindi mi avete già svelato il segreto, volevano farmi una sorpresa. Arriva Silver, il papà di Lupo Alberto, tanto per stare con Alberti. Un'altra cosa, però svegliamo oggi. Facci inganni, adesso facci inganni, non solo artista, pittore, ma anche scrittore. Ecco qui. Sono ancora abituato. Arriviamo anche a questo. Questo romanzo invece vorrei dedicarlo a un altro, visto che siamo sul lago di Garda. E mi viene un brivido perché l'ultimo catalogo di pittura mio è stato 40 anni di pittura, dall'Osteria a Monte Carlo. E la prima mostra mia la facemmo allora al porto di Moniga e la presentò a Nanta Salvalaggi. Ecco, stasera avendo scritto io per la prima volta nella mia vita un romanzo, a quattro mani con Elsa Di Lauro. Questo romanzo lo dicherei... Farei questa dedica a Nanta Salvalaggio che è stato mio grande amico. Sì, ho scritto questa cosa perché le mie frequentazioni, come già ho svelato, e poi si sono ampliate molto negli anni, sono partite proprio dall'amicizia con Nanta Salvalaggio, per poi le frequentazioni con Indro Montanelli, con Cesare Marchi. I miei cinque anni passati a Cortina mi hanno portato ad averli per casa tutti i giorni e in quel periodo molti di loro mi invitavano a scrivere. Cinque anni fa ho preso una ragazza, che è poi l'altra due mani su questo romanzo, che è venuta in studio a lavorare con me, per leggermi tutto ciò che io non avevo letto nel passato, negli ultimi trent'anni. Quindi abbiamo passato quattro anni a leggere e di conseguenza poi mi è venuta a voglia di scrivere questa cosa, che spero vi piacerà. Virgo Fidelis, facciamo un po' di pubblicità, Virgo Fidelis, Edito Murcia, atto sta cinque anni a essere di laurea. Noi oggi dalla Garda, per farti l'onore, non siamo venuti solo con le telecamere, siamo venuti con un grande tuo amico Eugenio Farina, grande poeta e un grande amico di tutti, e soprattutto anche con un'altra cosa di casa nostra, questa che ti sta portando adesso per farti il boccalito di questa burca. Grazie, grazie, è un buon auspicio, un grande vino, grande vino, sì, un grande vino Lugana. Hai già visto tutto, hai già visto l'etichetta, la conosco. Il nostro amico Fabio Contato voleva festeggiare Atos Facincani alla Galleria Rosenberg a Milano con questa magnum speciale del Camaiol, è una dedica personale del presidente Fabio Contato per Atos Facincani. Elsa Di Lauro è la scrittrice che con Atos Facincani ha fatto questo volume, ha presentato Virgo Fidelis, un bel nome, un nome che è un'avventura, credo, perché in due parole ci sta molto. Virgo Fidelis, perché questo nome? Virgo Fidelis è il titolo di un quadro che ha un ruolo molto importante all'interno di questo romanzo e suonava bene, ci piaceva tanto, in più è una ricorrenza a noi molto vicina, perché Atos partecipa ogni anno alla Virgo Fidelis, una messa detta il 21 novembre. Questa è stata la tua prima esperienza, parlando ovviamente di volumi, hai intenzione sempre con l'artista, anche se è difficile fare qualcos'altro? L'intenzione c'è, assolutamente, probabilmente diventerà anche un progetto. È la prima esperienza di una pubblicazione, io scrivo da tanto tempo, mi è sempre piaciuto, però sicuramente se non avessi incontrato Atos probabilmente non sarei mai diventata una scrittrice, perché sarebbe rimasto tutto nel famoso famigerato cassetto, lo facevo per diletto, e quando ci siamo conosciuti con Atos avevamo inizialmente intenzione di scrivere una biografia, però tutti e due siamo arrivati all'idea che ci saremmo divertiti molto di più a poter romanzare la sua vita, di cui alla fine c'è una piccola percentuale, poi abbiamo inventato tantissimo, ci siamo veramente divertiti un mondo. Avevamo parlato, preannunciato a Atos, era un segreto, ma intanto l'intervista avevamo detto che saresti arrivato, ecco, è arrivato a salutare questo grande amico. Sì, ormai lo inseguo io a Atos, ovunque, ci siamo visti a Cortina l'ultima volta, credo che è una seconda patria, poi lo conosco molto molto bene da sempre, insomma. Quanti anni sono che ci conosciamo? Penso tanti, tantissimi. Abbiamo fatto anche le prime edizioni in scherzi a parte, insomma, mi aveva messo a disposizione... Sì, si è arrabbiato lui, poi si spaventava a un certo punto, confessava, è uno scherzo, quando vedeva che buttava male. Faceva un po', due passi indietro. Atos, insomma, per me è l'artista di riferimento, devo dire che negli anni che furono, siamo stati ospiti in tanti programmi, devo dire che al di fuori che è un amico, sai, poi se uno è un amico, se uno fa una roba che non ti piace, e dici sì, così... Ma devo dire che lui ha questa solarità, questa luce che traspone in tutto quello che fa, che poi è quello che lui ha dentro. Gli viene anche dalla terra da dove viene, eh? Sì. Eh sì, eh sì. È una terra generosa. Guido Silvestri, in Alte e Silver, più conosciuto come il papà di Lupo Alberto, è un cartone animato che ha fatto storia in Italia e all'estero e che celebra i 35 anni, i 35 anni da Lupo, si intitola questa, e lo fa attraverso una mostra itinerante. Oggi ci troviamo a Milano, presso la sede centrale delle poste, dove c'è la sede numismatica, anche perché le poste hanno dedicato a Silver, a Lupo Alberto, un francobollo con tanto di annullo. Lupo Alberto, idolo dei bambini di adesso, di un tempo, com'è nata questa idea di questo personaggio? Eh, bisogna pensare a un ragazzo molto giovane che aveva un sogno, quello di fare i fumetti, per cui è anche un mestiere, un mestiere bastante centrico, strano rispetto a quello che una famiglia normale sognava per il proprio figlio. e quindi non posso dire di aver incontrato delle difficoltà, perché nessuno ha mai ostacolato così questa mia inclinazione, però sicuramente un po' di sorpresa, un po' di incomprensione, cioè sicuramente sì, quando tu, soprattutto, se vieni dalla provincia, dici che di mestiere grande vuoi fare i fumetti, la gente ti guarda il mondo strano. Grazie. 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 Grazie.